In tanti erano convinti che Barbara D'Urso, dopo l'addio a Mediaset, potesse tornare subito in tv. Ma così non è stato fino a questo momento e ora si è anche scoperto perché non è stata scelta dalla Rai. Sembrava fatta per la sua firma, poi qualcosa è cambiato improvvisamente e ora, a distanza di tempo, è stata fatta chiarezza sulla mancata sciusura dell'affare. Barbara D'Urso non è stata scelta dalla Rai per un motivo particolare. Stando alla ricostruzione dei fatti del foglio. Nelle ultime ore sono state rivelate delle cose molto interessanti, anche se fino a questo momento la conduttrice televisiva ha preferito non commentare l'indiscrezione, che comunque sta già facendo il giro dell'Italia. Barbara D'Urso, perché la Rai non l'ha scelta, saltato tutto prima della firma. Secondo questo rumor, le trattative tra Barbara D'Urso e la Rai ci sarebbero state come, non nonostante le smentite pubbliche. Quando l'annuncio ufficiale pareva essere imminente, c'è stato l'intervento di qualcuno che non ha permesso a Barbarella di approdare nella televisione pubblica italiana. Deludendo tantissimi ammiratori della presentatrice. La pagina Cinguetterai ha infatti scritto che secondo il foglio, Barbara D'Urso stava per firmare per la Rai, ma qualcuno ha interrotto le trattative per non fare uno sgarbo a Pier Silvio Berlusconi. Intanto, Meloni e la Lega ragionano su privatizzare una parte della Rai, con l'entrata di azionisti nel capitale. Dunque, non si è fatto nessun torto a media sette carmelita e rimasta ferma al palo. Vedremo nei prossimi mesi se Barbara D'Urso tornerà in auge nel mondo del piccolo schermo o se dovrà ancora aspettare per ricevere qualche offerta interessante.